VARTICALI Faccio la verticale Ce la fai a fare la verticale? Ce la faccio Non è vero Si Noo Noo sul muro però La verticale sul muro Si Quindi appoggi sul muro e rimani in piedi Si Il muro quale sarebbe? Questo C'è lo specchio Lo specchio Quella è una cosa inaudita che non si è mai vista Che espondi lo specchio Noo regà noo Però è tipo da un botto che non lo faccio eh Proprio da tanto eh Ma Lo vedete? Si che lo vedete Mamma mia Che gesto atletico Pure la spaccata Fra un po' si piglia pure i pupazzetti che sono dietro Wow Eh Comitato olimpico Dice 10 10 9 Passa al prossimo turno Livio Salute Passa al prossimo turno S pi